Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Come vi stavate aspettando, oggi è il video del Musical.ly e oggi sono nel mood di fare la canzone Allarm di Anna Marie e è una canzone molto popolare che è molto conosciuta da tutti e quindi volevo portarvi la mia versione e spero che questo video vi piaccia se volete duettare vi ricordo che dovete mettere più like e più commenti possibili al mio profilo di Musical.ly che vi lascio qua sotto o vi lascio qua vicino a me quindi fatelo perché duetto sempre, duetto ogni giorno poi volevo dirvi che farò delle live su Musical.ly mai fatte in vita mia quindi non ho completamente idea di come si facciano però cercherò di abituarmi e mi sembra che bisogna installare un'applicazione che si chiama Live.ly però una volta ho fatto la video chat con una mia amica e stavamo facendo la video chat e lei stava facendo una Live su Musical.ly io volevo provare questa applicazione l'ho scaricata e ho aperto l'applicazione non sapendo completamente come si facevano le Live peggiavo i tasti a caso e mi uscivano penso le Live cioè io ero in Live però non ero in Live infatti mi arrivavano i commenti ti prego di fai la Live ma io non sapevo assolutamente che ero in Live quindi ragazzi cercherò di farmi in Italia da qualche mia amica e farò Live quindi seguitemi su Live.ly su Musical.ly e faccio duetti anche ogni giorno quindi seguitemi lasciate tanti like vando alle ciance iniziamo subito allora come sempre telefono storto perché l'effetto viene un pochino più carino poi magari se volete essere un po' tambro mettete anche una pacca di capelli sopra la vostra faccia metà faccia e iniziamo con il video allora io inizio così con le mani a modi che ne so così e faccio un movimento opposto capite no? cioè dai sicuramente capite non mi so spiegare ma voi capite perché siete persone intelligenti incominciamo subito poi dice quindi io faccio così così poi così nel senso him e così e così capito? cioè mi sono spiegata proprio al 100% però vi faccio vedere dal telefono così capite meglio poi fa text from xsms qualcosa del genere e what did you expect? quindi io faccio così e così è un punto interrogativo in teoria cioè potrebbe essere un punto madonna quanto faccio schifo su musical e quindi continuiamo poi fa no alani here no where he goes e faccio tipo movimento con il telefono e quando dice go e quando dice go faccio così nel senso camminare no? capito? e quindi continuiamo poi finisce con una frase che non so ma voi sentirete nel video che fa che fa qualcosa di bitch e farò questo movimento perché l'ho visto su altri musicali non chiedetemi perché e quindi così mi riguarda il musicali perché non so come è venuto dai alla fine è venuto abbastanza bene per essere una principiante per essere al secondo video che faccio e dopo aver visto quanti video quanti video mi sono vista tipo 10.000 video di come si fanno i musicali non ho inizi cioè non ho non ho imparato così tanto però diciamo che è abbastanza carino questo era il video spero vi sia piaciuto spero che abbiate capito qualcosa abbiate capito che io sono principiante però voglio cioè voglio imparare e voglio che voi impariate cioè impariate con me nonostante io sia lo schifo su instagram cioè su su musicali perché secondo me si comincia da zero come vi ho detto nel precedente video se non l'avete visto cosa state facendo cioè cosa state facendo non voi non avete capito no scherzo se non l'avete visto andatelo a vedere e quindi volevo insegnare a voi magari siete principianti magari siete migliori cioè ovviamente siete sicuramente migliori di me a fare un musicali quindi spero che questa che questa canzone vi sia piaciuto che questo video vi sia piaciuto seguitemi su social network che trovate qua sotto in descrizione usciranno i vlogmas come vi ho detto nel video precedente io vi mando un bacio se volete duettare lasciate un bel pollice in su vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao tesoro del quale un abbraccio un abbraccio grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video